Spendere le luci e ridurre il consumo di elettricità. Il 8 febbraio torna la giornata del risparmio energetico mi illumino di meno. Lanciata dal programma radiofonico Caterpillar, l'iniziativa all'obiettivo di limitare i consumi di elettricità e sostenere le energie pulite. Comuni, associazioni, scuole, aziende e case di tutta Italia spegneranno il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili e accenderanno invece le luci intelligenti. Il risparmio stimato di energie è pari a 1330 kilowatt, valore che equivale al consumo di 900 lavatrici. Il risparmio stimato di energie pulite. Il risparmio stimato di energie pulite. Il risparmio stimato di energie pulite. Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti